ok ciao ragazzi oggi sblocchiamo un huawei che il cliente non si ricorda più il codice purtroppo sarei dimenticato non sono capito bene comunque un cliente che conosco e dobbiamo praticamente farglielo andare sbloccaglielo premesso che con questa operazione si perdono tutti i contenuti le impostazioni che ci sono sul telefono quindi non resta più niente rubrica foto cose si cancellano si cancella completamente ok dai passiamo a iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.